Musica Potenta pari ragazzi, qua è Axel, oggi mi grado, oggi sono il sole e sono qui a presentare il mio nuovo video Che ragazzi è un nuovo pack opening, perchè sto facendo questo pack opening? Beh ragazzi non ci vuole molto capirlo, perchè è uscito il nuovo team on the season, quel team on the season, quello della Bundesliga Che secondo me hanno fatto un po' coi piedi, infatti secondo me ci sono giocatori che hanno giocato abbastanza bene Che non sono stati messi in questo team on the season, un esempio Ramos, l'attaccante dell'ERTA Che quando non era infortunato, perchè adesso non mi sbaglio è infortunato, forse è rientrato da poco E' riuscito a portare l'ERTA addirittura in zona Europa League, quindi io lui me lo aspettavo alla stragrande Poi dato che è anche forte su FIFA, ci voleva, poi comunque questo qua è il team, quindi vabbè tranco ormai Noi non ci possiamo fare più niente, comunque un'altra cosa Voi mi avete detto Axel tu sei troppo sfortunato, devi fare qualcosa, prova a cambiare account E quindi ragazzi io mi sono fatto un nuovo account e oggi proveremo ad aprire i pacchetti speciali Con questo nuovo account appunto per vedere se sta cosa che si dice è vera Che con gli account appena aperti e dunque appena iniziati si è un po' più fortunati, vediamo Comunque per iniziare vi ricordo di passare da FIFA con gli stessi Se siete interessati a comprare anche le FIFA E mi volevo scusare perché non ho fatto oggi l'estrazione di insignie Ma ora farò stasera o comunque domani Il motivo qual è è che non ho avuto molto tempo Comunque qua c'è una persona che vi voleva salutare Comunque saluta Aia mi stava uccidendo Vi ha già salutato e basta credo di aver detto tutto Vabbè comunque grazie mille siamo arrivati a 4.000 mi piace nel video di ieri Vediamo se ci arriviamo anche oggi Oh mio dio No comunque Allora primo pacchetto lo voglio Vediamo Vediamo proprio questi primi pacchetti Alex E c'è giù Va bene Non va bene affatto Però dato che sono con uno pacchetto Perché chiaramente mi servono questi giocatori Diciamo Poi ecco Veramente io per questo team of the season Voglio trovare almeno un Toads Quindi farò veramente tanti backgobling Magari ne metto già un altro domani Adesso comunque si vedrà Se potete ecco lasciate un bel mi piace Perché se noi arriviamo a 3.000 mi piace 3.000 3.000 0 Cosa succede? Io troverò un buon giocatore Quindi lasciate un bel mi piace E se l'avete lasciato A fine video Troverò un giocatore Tiago che ha fatto un gol della Mazzanna In campionato Adesso mi ricordo che squadra Non l'hanno messo No l'hanno deciso Quindi noi non abbiamo trovato ancora niente E sta cosa non mi garba affatto Però comunque Noi non vogliamo Abbiamo ancora 8 pacchetti disponibili Dunque andiamo ad aprire l'ottavo con il naso L'abbiamo aperto con il naso E noi possiamo bene aspettare un attimo Ragazzi non guardo eh Epla Ah barzagli Turè ovviamente quello pattone Per il resto Non abbiamo trovato Mille crediti Oh mio dio Non abbiamo trovato molto neanche In questo pacchetto Mannaggia Praticamente Mi sa che solo con me Non vale sta cosa Che con un nuovo canister Che cosa di buono Comunque Ancora 7 pacchetti Come direbbe Un buon malesami Noi non siamo molli E andiamo avanti Con questo pacchetto In cui troviamo Valencia Ivanovic Ragazzi Ho capito cosa stava succedendo Il mio gatto Pulce Portava un po' sfortuna Quindi L'ho appena fatto uscire La webcam Mi sa che se è impallata Non è vero Alla stragrande Perché è questa Già storia Già storia Ecco una cosa ragazzi Siccome devo chiedervi una cosa Consigliatemi Una nuova webcam Oppure videocamera Oppure anche Ditemi se è buona La GoPro Perché appunto Io avevo in mente Di prenderne una Dato che questa qua Che ho io Della Logitech Mi ha altamente Deluso Ebbene si Quindi se avete O meglio se sapete Qualche videocamera buona Magari anche ad un buon prezzo Scrivetela Nei commenti Vabbè Vabbè ragazzi Andiamo per questo nuovo pacchetto Saldiamo Oh non ci vuole venire Ma dai Ne abbiamo ancora quattro La mia speranza Sta andando via via A diminuire Però va bene Va bene Va bene Dai O giro sulla sedia L'abbiamo fatto Ma dai Oh non ci credo Cosa devo fare Secondo voi Per trovare Un giocatore buono Non guardo Adesso proprio Sto fermissimo Oh mio dio Ragazzi Ancora due pacchetti Madonna Non ci credo Io andrò a scartare Ciò che troverò Dentro in questo pacchetto Quindi puoi uscire Anche tu Giocatore blu Ma ti andrò a scartare Ti scarto Tanto Ti scarto E che due palle Perché non funziona Con me Sta cosa Ultimo Pacchetto Ultimo pacchetto Solitamente In media Uno ne trova Due o tre Red team of the season In 10 pacchetti speciali Dai Dai Ti prego 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 Spogli troviamo Spogli 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 E sgarline Ragazzi Ditemi Magari Intentati Io non troverò Mai niente Nel pacchetto Ma in questo L'ho capito Stia che io Qualcosa da fare Con il prossimo Pacchetto quindi io cerco di farlo è un po' che ci deve essere un po' oddio oddio ci dà voglio a chiuso il trofeo oh ti prego ho visto il trofeo è uno blu uno blu non ne hai nemmeno uno blu ma mi prendi in giro perchè mi hai dato un trofeo no mi hai fatto rimanere il malissimo ultimo facetto